Per la prima volta mostra un aumento dell'1% a livello nazionale la percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid. Raggiunge infatti il 3%, occulta molto bassa rispetto ai picchi di mesi passati, ma che rispecchia l'aumento dei contagi dei giorni scorsi. Il dato emerge dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, aggiornato ad ieri. Resta ancora stabile dai primi di luglio e pari al 2% il numero di posti letto in terapia intensiva occupati. In campagna sono 301 i nuovi positivi, nel bollettino dell'unità di crisi non si segnalano vittime. I posti letto occupati nelle terapie intensive sono 11, quelli di degenza salgono a 180. Per quanto riguarda l'Irpinia, dove ieri si sono registrate 7 casi positivi, presso l'azienda Moscati risultano ricoverati 4 pazienti, 2 in terapia intensiva del Covid hospital, di cui uno non è più intubato, ma resta in questo reparto perché è ancora positivo, mentre altre due persone sono ricoverate nel reparto di malattie infettive. Intanto Vincenzo De Luca preannuncia la proroga dell'ordinanza sull'obbligo delle mascherine all'aperto. Facciamo altre 10 ordinanze per rendere obbligatorie 10 mascherine, anche sulle orecchie. Così questa mattina il governatore è a margine di una visita al Policlinico di Napoli. Quando diciamo che chi si vaccina è immunizzato per il 92% al massimo, dobbiamo sapere che anche con la seconda dose c'è un 10% che si contagia. Il vantaggio è che chi è immunizzato non va in terapia intensiva e non ha problemi seri, ma contagia a sua volta gli altri, quindi l'uso della mascherina deve essere obbligatorio sempre e anche quando si è vaccinati per la tutela propria e degli altri. È davvero un martirio portare la mascherina? Certo è un piccolo fastidio, ma in campo abbiamo una grande protezione e un aiuto per tornare alla vita normale. Un po' di buonsenso. De Luca ha anche sottolineato i rischi della Movida. Avete visto, ha detto, l'immagine dei locali lotturni e delle discoteche? Anche quando fanno finta di avere ingressi controllati, 20, 10, 30 persone, arrivano l'una e le due di notte e si scatenano. Entrano centinaia di persone a fare quello che vogliono. Non va bene. Grazie.